Tutto nella norma anche questa mattina al Brennero. L'Austria, nonostante gli annunci degli ultimi giorni, per ora non ha ripristinato i controlli alla frontiera e non è escluso che si sia trattato solo di misure di pretattica in vista di importanti decisioni che Bruxelles potrebbe prendere già a mercoledì sulla fronte del trattato di Schengen. A quanto pare l'emergenza non è tale e se effettivamente si registrano flussi di migranti in transito al Brennero sono in direzione opposta a quella denunciata da Vienna. In questo momento specifico in cui la linea dei Balcani e i confini balcanici assorbono, continuano ad assorbire centinaia di profughi al giorno, siamo noi a rispingere in Austria moltissime persone perché arrivano da quella direzione. In attesa che l'Europa faccia qualcosa perché sino ad ora è riuscita a ridistribuire nei vari paesi solo 280 dei 160.000 profughi arrivati, la provincia di Bolzano fa sapere di essere pronta a ogni evenienza. C'è logicamente da vedere cosa è in grado di fare l'Unione Europea coinvolgendo altri stati nel Medio Oriente fino alla Turchia, se sono in grado di fermare qualche cosa però non credo che i profughi che provengono da situazioni drammatiche si lasciano fermare. A di là della stretta attualità le autorità competenti sono chiamate a ragionare anche sul futuro a breve termine, quello per intenderci della prossima primavera. Con il rialzo delle temperature gli sbarchi nel sud Italia potrebbero riprendere in modo massiccio e all'imbuto del Brennero potrebbero arrivare 700 profughi al giorno. Possono prospettarsi problemi di controllo del territorio, ordine pubblico speriamo di no, speriamo di no perché al momento le persone che arrivano non hanno alcun interesse a creare problemi di ordine pubblico. Certamente le scene che abbiamo visto l'anno scorso in stazione dovute alla concentrazione di persone creano sicuramente problemi alla sicurezza ferroviaria ma certamente possono creare problemi sotto un altro fronte, cioè quella dell'assistenza successiva, quella della stanzialità di queste persone alle quali o troviamo qualcosa da fare o assisteremo sempre di più a scene di intolleranza che poi sfoceranno inevitabilmente come ritorsione in scene di razzismo.